è un bel percorsino questo qua ha fatto dei quad però adesso non è per dire scusate un attimo ho seguito mi sembra due ruote parallele mi sembra un percorso dei quad non voglio dire se sbaglio la curva mi rovescio ma qui se sbaglio no è possibile cioè no dico una fettuccia almeno un qualcosa vabbè in lontananza si vede l'autostrada e intanto così per ridere abbiamo fatto 35 km se rigiamo a Montalto o Scapparina quasi vabbè